Ciao a tutti bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video haul questo video è un video mini haul che voglio fare per mostrarvi gli ultimi acquistini che ho fatto scusate il giro di parole ma il senso è quello e vi voglio mostrare appunto gli ultimi acquisti che ho fatto siamo state mia sorella dai brochet e da Kiko partiamo prima dalle cose che ho comprato dai brochet dai brochet abbiamo ricevuto a casa la cartolina con scritto tutti gli sconti praticamente abbiamo fatto shopping scontato e abbiamo ritirato gli omaggi in omaggio c'era questo beauty acqua dorato acqua dorati e questo bagnoschiuma ai alfiore di loto in questi ve li faccio vedere meglio dopo allora la prima cosa che ho comprato è stato il mio solito bagnoschiuma della ai lang ylang fior di tiare e lang ylang appunto che è il mio solito bagnoschiuma che acquisto sempre dai brochet e questo costava 3 e 95 ve lo dico sia io che mia la sorella abbiamo preso appunto due bagnoschiuma lei a quello la vaniglia sempre di brochet io questo qua a fiore di tiare e lang ylang e tutti e due costano 3 e 95 allora poi poi ci siamo soffermate sugli smalti erano due a 5 euro quindi uno era questo uno questo e l'altro non ve lo posso fare cioè non riesco a farvelo vedere perché mia sorella l'ha usato e non so dove l'ha messo quindi ho provato a cercare anche nei cassetti degli smalti nel cassetti ma non l'ho trovato quindi vi faccio vedere soltanto questo che tra parentesi è un bellissimo colore però c'è un altro di questa c'è veramente ne ho altri due però uno ce l'hanno dato in omaggio un po di tempo fa e quella secondo invece l'abbiamo comprato comunque questo è il colore scuro mentre l'altro è un colore più più chiaro poi ci siamo mi sono fermata anche a prendere sempre sempre nella stessa zona c'era questo rossetto che abbiamo preso mia sorella mi ha preso mi ha preso e ho preso questo colore 400 no il 41 ho sbagliato ho detto mai è questo colore qua è ancora sigillato perché sapete che io quando ho un sacco di rossetto quando ho un sacco di rossetti aperti questo lo tengo non ne apro altri poi voglio dire ne ho un sacco da aprire e quindi scusate il telefono di casa e quindi questo lo lascio chiuso ancora sigillato poi poi questi questi c'era dati campioncini ci ha dato questi campioncini qua sono di più ma questi un po di campioncini così ecco ci ha dato tutti questi campioncini qua da provare e poi non maggio appunto c'era questo questo mini bagnoschio mai fiori di loto e questa pochettina con i cua questa questa scusate questa qui che questa la tiene mia sorella tanto a me non serve quindi a lei piacciono un po le piacciono il po a quindi mentre da kiko abbiamo comprato due matitoni rossetto allora vi faccio vedere prima quello di mia sorella che è questo qui questo ed è questo colore qui questo colore qui che vi faccio vedere così ma se volete apro anche il tappo anzi ve lo apro vedete questo colore qui questo è di mia sorella scusate adesso lo metto via lo metto via nel senso che lo chiudo piano piano perché insomma è nuovo e mentre il mio è un po più chiaro è un rosa sempre nude aia si è rotto non fa niente il mio è scusate faccio sempre il casino con le scatoline è questo qui vedete il colore è diverso e questa qui è la punta questa aspetta si allora allora questo qui è 01 questo è la 0 scusate scusate 0 o il mio è 01 il suo è 02 e questo è il suo appunto il suo questo è tutto quello che abbiamo comprato vedete ho preso molto poco appunto perché ci mancava il maglio schiuma e alla chicco deve essere sincerare ho intratto soltanto per dare un'occhiata poi abbiamo visto gli sconti e quindi abbiamo preso una cosa a testa invece invece gli smalti avevamo due a 5 euro quindi abbiamo deciso di prenderne due appunto e di sfruttare l'offerta non lo facciamo quasi mai nel senso che non andiamo cioè andiamo a comprare le le cose ma di solito ci capita poche volte di andare a e andiamo solo a e e quando abbiamo le cartoline e devo essere sincera alla chicco era entrata soltanto per dare un'occhiata e quindi poi ho comprato due cose però però come scusate però come avete visto il mio hole è molto piccolino molto ridotto perché appunto voglio prima cercare di finire tutti i trucchi che ho e poi ci vorranno mille anni non fa niente io ci provo lo stesso e e poi appunto fare il rifornimento di trucchi e e quindi andare a comprare nuovi tra un bel po' e poi li ho comprati solo perché questi qua erano in in saldo e poi uno avevamo la cartolina e due erano tipo costavano due questi qua costavano 2,95 quindi costa molto poco molto poco e poi poi un po' che non facevo uno sul canale quindi ho voluto farveli vedere spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete mi piace ehm se invece è la prima volta che vedete un mio video ehm volete vederne degli altri iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati e aggiornati e se invece volete condividere questo video potete condividerlo così mi aiutate un po' a far crescere il canale io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao